Gli scoprii per concludere mai nulla Quella Elena che è la causa della guerra E non farà malapena per i personaggi E quella Troia assediata e mai presa Tutto ciò che a noi Quella Troia per evitare Quella Indio Quella Indio assediata e mai presa Tutto ciò che a noi Ma sì bro Se tra gli sciamati La parte Gli sciocchi amminano tutti un autore rettato Io le dico per noi soli E mi piace soltanto Quel che mi serve Non ho bidonio di nessuno Per essere ignorante Del resto Dico ciò che penso Mi interessa assai poco Credi anche se la pensi sicuramente Ah, che sarebbe Ah, che sarebbe Ma di dopo Prima c'è la Maria che ha provato a riscoltare Adesso mi ha salito Raffa il braccio No Non li asusare No Poi magari Prima c'è la cena E poi rimanete li asusare No Non chiedeva Nese I cani Vado a favorare Anche Lo vuoi? No Quindi alla fine del concetto Però ancora la media No La musica non continua, musici e amici e le ringraziano tutti i nostri amici e i nostri amici, fatelo anche senza musica, stupimo, sopimo... ... gi습니까? stoppa stoppa